A un anno dall'apocalisse oppure da un profondo cambiamento spirituale, in Honduras è iniziato il conto alla rovescia verso il 21 dicembre del 2012 che segna la fine dell'ultimo ciclo del calendario Maya. Alla presenza del presidente Porfirio Lobo, a Copan, sito archeologico e confini con il Guatemala, si svolta una cerimonia dedicata a una profezia che la scienza si impegna a smentire.